Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Allora oggi, dopo aver messo il video del concerto di Rama, che siamo andato a vedere ieri sera, l'abbiamo portato con mia moglie, l'abbiamo portato mia figlia, la mia seconda gente, allora adesso facciamo la recensione del concerto. Devo dire, il concerto per carità è bravo di Rama, come canta, anche se non è il mio genere di musica diciamo, però devo dire che è stato bravo sto ragazzo. Scenografia ogni tanto col fumo e qualche volta facciano venire fuori, non so come, le fontane, quelle scintillanti. Qualche gioco di luce, diciamo controlli di entrata molto buoni, ottimi, per la sicurezza, devo dire, davvero buoni. Trovato un po' caro, 2 euro il guardaroba a capo, c'è vestito 2 euro. Poi, devo dire, pieno di gente, di fatti si sta un po' come le sardine, un po' schiacciati come le sardine, perché logico che c'era tanta gente, di fatti già arrivati c'era già farsi la coda solo per entrare. Comunque, detto questo, devo dire che, anche se non è il mio genere di musica, ho apprezzato, come cantavo, ho apprezzato la bravura di questo ragazzo. Io vi saluto e vi aspetto ai miei prossimi video YouTube, e ci vediamo alla prossima. Ciao, buona giornata.